Ci sono giorni in cui senti di avere il destino nelle mani, ci sono giorni in cui senti di poter decidere il tuo destino. Questo è uno di quei giorni. Gentili te spettatori di S1 TV, benvenuti qui a Comunale di Monte Paone, Fra Botto Mannis, dove siamo lieti di offrirvi la terza giornata di ritorno del Girone C di prima categoria calabrese, grazie alla squadra esterna 65 di S1 TV guidata da Antonio Siciliani e Pasquale Lentini, Pantaleone Leto, Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri e Sasai Apello, perché oggi avremo anche il collegamento da bordo campo. per la partita tra Monte Paone, Real Monte Paone e Vigor Lamezia. Scontro di cartello di questa giornata che vede appunto le squadre entrare in quella che ormai è una bolgia, servirebbe il terzo anello qui al Fra Botto Mannis, perché stanno partendo le coreografie meravigliose dei tifosi, mentre le squadre stanno per entrare in campo agli ordini del signor Ricci di Catanzaro. e intanto mentre si svolgono gli ultimi adempimenti, quelle che sono le fotografie di rito, il saluto ai giovanissimi, anzi piccolissimi accompagnatori delle due squadre, e mentre si accendono i fumogeni e l'acro odore del fumogeno si spande qui anche sotto il bandierone esposto al secondo anello dei tifosi, mi permetto di salutare al volo l'amico Pantaleone Leto, che è lì a bordo campo. Pantaleone, se mi senti, mi dici che odore ha l'erba del Fra Botto Mannis? Ciao Giorgio, buon pomeriggio, siamo qui a bordo campo per commentare questa giornata e viverla più da vicino insieme a te, e questa giornata di cartello tra Montepaone e Vigor Lamezia. Vai Giorgio, le squadre stanno entrando in campo, ci sentiremo via via. Ok, Pantaleone ci farà sentire tutto quello che accade tra le due panchine, e intanto ecco i tifosi e soprattutto le Ultras del Montepaone hanno preparato questa meravigliosa coreografia, e veramente qui, anche se cadesse una monetina per terra, non ci sarebbe spazio perché il Fra Botto Mannis è sold out. Salutiamo anche in tribuna stampa Mr. Sestito, Mimmo Cosentino che ci dà subito il pronostico a freddo, quanto finisce Mimmo? Io ti dico che inizia solo 0-0, poi quanto finisce non lo so. Mr. Sestito che appunto è venuto qui a curiosare e che è il nostro gradito ospite in tribuna. Queste sono le classiche partite da tripla, perché sono due squadre tutte e due ben attrezzate, che si equivalgono, e quindi sono partite da tripla, però il Montepaone, sostenuto dal suo pubblico, potrebbe sfruttare il fattore campo. Grazie Mr. Sestito, mi sia consentito comunque un saluto a Gregorio Vatrella, e ora vedremo anche uno striscione che viene esposto, insomma il pensiero corre sempre lì. In questo caso c'è anche un saluto a Nicola e quindi sono momenti anche di ricordo e di una certa tristezza che si scioglie nell'emozione che coglie tutti e che è l'emozione della partita. Le due squadre presentano le seguenti formazioni, La Vigor, Lamezia, Schiera, Maruca, Barba, Iannazzo, Tarzi, Antonelli, Maluccio, Siciliano, Andricciola, Zaffino, Niang e Calidonna, Simone. In panchina accanto a Leo Viterbo ci sono Lucia, Lucchino, Muraca, Francesco, Calidonna, Cristaudo, Damiano e Romito. Per il Montepaone, mentre vediamo il classico saluto di Fair Play, scendono in campo Lombardo, Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Cannistrà, Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Marcellino e Domenico Voci. Alessandro Pisano, il coach, il leader, il manager del Montepaone, porta con sé in panchina Leone, Sinopoli, Carpino, Doria, Mungo, Paparazzo e Pirritano. Abbiamo la consueta omonimia tra i paparazzo, c'è il giocatore dell'89 e che è il capitano e l'altro Antonio che è del 91 e che è in panchina. Mentre si stanno schierando le formazioni, ricordiamo che la Vigor Lamezzi attaccherà da sinistra verso destra con la classicissima tenuta bianco-verde a strisce verticali, calzoncini verdi e calzettoni bianchi e il Montepaone risponde con la tenuta nera con inserti gialli e calzettoni e calzoncini ugualmente neri. Pantaleone Leto, quali sono stati gli ultimi consigli, gli ultimi saluti? Cosa ha detto mister Pisano? Il mister Pisano ha appena setto la mano a tutti i ragazzi della panchina, poi l'abbiamo visto avvicinarsi verso la panchina ospite andando a stringere la mano al mister avversario salutando tutti i ragazzi anche della Vigor e poi è ritornato alla sua postazione pronto per dare le indicazioni per la gara che sta per partire. Ed ecco che siamo pronti quindi non manca più nulla, il signor Ricci ha verificato tutto, ha anche controllato che Pantalone Leto non facesse invasioni di campo con il microfono e sta per dare il via a questo attesissimo match, la seconda contro la terza anche se il Montepaone deve recuperare una partita, quella di domenica scorsa a Giri Falco, la seconda a 39 punti, la terza a 38 nella rincorsa verso il San Calogero che è primo in classifica. E siamo partiti con il Montepaone che ha battuto con un lancio lungo di Mellace e il rinvio in direzione siciliano da parte della difesa del Vigor Lamezia che cerca subito di imbeccare lo zaffino che è bomber del campionato, ha segnato tre gol qui con il Lamezia, però è primo nella graduatoria con 17 gol grazie anche alle reti segnate nel suo periodo al Serrese e quindi vediamo che c'è una rimessa laterale da parte del Montepaone, recupera il pallone Marco Voce, alza la palla, Procopio non riesce a colpirla, ribatte Iannazzo il fuori quota classe 97 della Vigor Lamezia e viene subito rilevato un fallo da parte dell'arbitro appunto il signor Ricci della sezione di Catanzaro. Vediamo allora che batterà questa punizione la Vigor Lamezia che si dispone presumibilmente con quattro giocatori in difesa, almeno in fase di possesso, Niang si appoggia per siciliano sovrapposizione, appoggia a sua volta per Niang, il bomber con otto reti della Vigor Lamezia, la palla finisce a Tarsia che ricomincia il fraseggio manovrato della Vigor Lamezia. Siamo probabilmente di fronte alle due squadre più tecniche e più qualificate appunto per quanto riguarda il coefficiente di qualità dell'intero girone. recupera intanto Andricciola, tenta il tiro, murato da Conidi e poi il cross di Niang si perde alto sulla trasversale della porta difesa da Lombardo. Salutiamo i nostri amici da Cattapalle, oggi presenti in forze, praticamente c'è tutta la scuola calcio del Montepaone, tutti quelli che un domani difenderanno i colori del Montepaone, probabilmente su questa stessa erba, su questo stesso campo. Ecco che parte il ragionamento in fase di partenza da parte del Montepaone con Conidi che raccoglie il pallone a fianco a sé Domenico Voci, ma preferisce ragionare ancora con Gianmarco Lombardo che un po' come Scesni nella Juventus, usa i piedi quasi bene, quasi quanto fa con le mani e col corpo quando para. Lancio in profondità in una zona presidiata dal numero 6 Maluccio che colpisce i test e mette la palla in rimessa laterale. Allora, mister Sestito avrà già colto quali sono gli schemi, come giocano 7-7-7 per entrambe le squadre? No, diciamo sono due schieramenti a specchio, tutte e due col 4-3-3. E quindi tre punte significa che sono squadre votate all'attacco, non per nulla la Vigor Lamezia è una tra le squadre che hanno segnato di più, ma attenzione, seguiamo Domenico Voci che viene contratto da Niang in rimessa laterale. L'attacco della Lamezia ha segnato fino ad oggi 43 gol, mentre invece di meno ma forse più pesanti i 31, quelli del Montepone, sempre con una partita in meno. La palla si impenna, arriva nella zona dove colpisce di testa Ienco, ancora un rinvio, ha visto un fallo il signor Ricci e quindi si riprenderà per una carica effettuata da Simone Calidonna su Ienco, con una punizione di cui si incarica per quanto riguarda la battuta Paparazzo, che allarga subito ma un momento deve fischiare il signor Ricci. Leto, perdonami, ma cosa stanno dicendo, cosa senti in campo tu che percepisci addirittura le voci dei calciatori e dei mister? Allora, mister Pisano dice ai ragazzi di pensare a giocare perché se ha chiamato punizione non serve andare a discutere con il signor Ricci, mentre il mister della Vigor chiede ai suoi di difendere in questa fase con ordine. Intanto Maruca è uscito a pugni chiusi su Marco Voci, la palla è finita in rimessa laterale con Ienco che sfrutta il movimento di Salvatore Procopio, riceve ancora palla di fronte a essere un avversario alla persona di Andricciola, riesce lo stesso a crossare, anche se con molta esperienza Andricciola ha appunto spostato fisicamente il Millennials del Monte Paone, ma comunque nessun fallo, si riprende con un calcio di rinvio che Maruca finge di voler appoggiare ad Antonelli ma poi probabilmente calcerà di potenza con il destro cercando di superare la metà a campo. Maruca in elegante tenuta completamente gialla con Guantoni invece rossi, tanto per fare da contraltare. Recupera un buon pallone intanto Calidonna, mette in mezzo verso Zaffina senza complimenti con Idy, ancora si combatte con la baionetta, alla fine cerca Marco Voci di recuperare e ragionare appoggiando a Mellace. Molto alto il pressing della Vigor Lamezia, squadra di Blasone, ma attenzione perché Marcellino va a disturbare Maruca, il rilancio viene intercettato prima da Andricciola e poi da Mellace che cerca appunto di dare ordine alla manovra con Barba che entra in maniera decisa su Procopio, l'arbitro fa continuare il gioco, Mellace che viene raddoppiato e deve mettere la palla in rimessa laterale, affidata a Simone Calidonna che poi però a sua volta lascia l'incombenza della rimessa al numero 5 Antonelli che appunto la effettua all'altezza della panchina del Monte Paone con mister Pisano che è ai limiti dell'area tecnica. Ancora Mellace che colpisce di testa per Marco Voci, l'appoggio non si conclude su Paparazzo ed è ancora una rimessa laterale ancora in favore di Antonelli. Antonelli effettua appunto questa rimessa con le mani, difende il pallone, il numero 7 siciliano, allarga poi in direzione di Calidonna, sovrastato da Mellace, probabilmente c'è fallo anche se non tutti sembrano in panchia d'accordo e quindi attenzione a una punizione in zona d'attacco, defilata sulla destra da parte della Vigor Lamezia con Andricciola e Antonelli che si preparano appunto a calciare la stessa e il signor Ricci che va a calcolare esattamente con precisione appunto i 9,15 m come possiamo notare anche dal nostro monitor di servizio. Sarà Antonelli a calciare appunto questa punizione, ci sono addirittura sei giocatori pronti della Vigor Lamezia pronti a colpire, marcatura a zona da parte del Montepaone, Riccia imbocca il fischietto, fischia, parte la parabola, arcuata, ci pensa Domenico Voci a ribattere, anzi si trattava di Fiorentino con Domenico Voci che però vede Andricciola anticiparlo, ancora mette la palla in mezzo, deviata in calcio d'angolo. Leto che c'è tensione, questo calcio d'angolo vedo che lo sta andando a battere Antonelli ma qual è l'indicazione di mister Viterbo che vedo fuori dall'area tecnica? Ecco che Leto si è emozionato probabilmente non mi segue in questo momento quindi vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo con Antonelli che alza il braccio, parte ancora la parabola arcuata, colpo di testa, l'impatto è stato se non andiamo errato di Tarsia e la palla, anzi no si trattava di Zaffino e la palla appunto finisce alta sulla trasversale. Vediamo se ci sente Pantaleone Leto, se sta seguendo la partita. Leo, questi primi minuti ne sono passati al nostro cronometro 7, che impressione ti stanno dando? Perché tu poi sei un esperto di calcio, un uomo di campo come si suol dire. Bene, diciamo primi minuti in cui le squadre stanno cercando di attaccarsi, mister Fissano chiede ai suoi di salire, mentre la Vigor in questi minuti mister ha chiesto in più di un'occasione di stare alto, ora cari donna è a terra, l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione, vai tu per la cronaca. E' entrata decisa ma non cattiva di Cannistra, probabilmente il signor Ricci ha intravisto il piede a martello, però mister Sestito è una di quelle entrate che comunque fanno parte del gioco del calcio. Ma io penso che sia stata un'entrata decisa, ma corretta, tant'è vero che il pallone è rimasto attaccato al piede di Cannistra. E mister Sestito comunque scalpita perché anche lui è uomo di campo, qui tra poltrone comodissime in pelle in tribuna stampa, monitor e possibilità di vedere la partita in 3D sicuramente non è l'ambiente adatto per mister Sestito, ma ci sta vicino anche per darci qualche indicazione tecnica, visto che è appunto mastica calcio da decenni. Ancora una punizione, questa volta assegnata appunto per l'intervento da parte di Cannistra, che sarà battuta da Antonelli e ancora una volta grappolo umano in aria, forse l'unica marcatura uomo è quella su Niang, parte Antonelli, parabola arcuata, Fiorentino continua a essere un baluardo insormontabile ed è Antonelli che appoggia per Calidonna, contrato da Domenico Vosci che recupera il pallone, cerca di farlo rimbalzare su Calidonna e poi la palla finisce ancora in angolo sull'intervento di Ienco. Notiamo che Viterbo si è un po' adirato per questo sviluppo dell'azione, dopo chiederemo a Leto esattamente cosa ha detto, vediamo prima questo che è il secondo calcio d'angolo per la Vigor Lamezia, ancora il fromboliere Antonelli numero 5 che alza la mano, chiama lo stesso schema di prima, però la parabola è bassa e vi è ribattuta da Mellace, gran tiro, fucilata, miracolo di Lombardo e Zaffino aveva messo il piede sul tiro che era partito dai 20 metri, Lombardo ha detto no però era in fuorigioco e quindi giusta la segnalazione il tiro inizialmente era stato effettuato da Simone Calidonna. Leo è saltato sulla panchina mister Viterbo? Sì, mister Viterbo nell'azione precedente si è molto arrabbiato con il suo ragazzo perché non l'ha messo dentro e si è fatto anticipare con l'azione che poi ha dato l'azione ad angolo. Voleva che alzasse la palla in modo tale che potesse arrivare in area di rigore dove c'erano posizionati i suoi compagni. C'è ancora un intervento deciso di Domenico Voci con i Lamettini che vorrebbero appunto dal signor Ricci un intervento con cartellino, viene assegnata soltanto la punizione per l'entrata decisa su Maluccio che è lo stesso giocatore, ora si prepara appunto a effettuare il rinvio, siamo all'altezza del centrocampo, zona difensiva del Montepaone, parte il sinistro di Maluccio a cercare appunto i suoi compagni ma Cannistra in maniera imperiosa colpisce di testa, apertura per Procopio che fa rimbalzare la palla, la mette in mezzo in rovesciata, Maluccio con ottima scelta di tempo recupera il pallone, ancora uno scontro maschio tra Ienco e Calidonna, poi si lotta a centrocampo con Domenico Voci che allarga per Capitan Paparazzo che riceve la palla, tocca per Marco Voci che di esterno fa partire Paparazzo ma c'è Barba che con decisione mette la palla in out e va a finire in mezzo ai tantissimi tifosi del Primonello che subito restituiscono la sfera, oggi veramente il Frabotto Mannis offre uno spettacolo indimenticabile come noi avremo modo anche di farvi vedere grazie alle nostre riprese anche dal basso. Ienco fa partire un cross, interviene però la difesa del Contarsia, Contarsia, la difesa del Vigor Lamezia e Niang che si impegna in una corsa con Fiorentino che lo ferma di giustezza facendo rimbalzare la palla anche sull'attaccante Lamettino e quindi conquistando una rimessa laterale. Mimmo ti vedo emozionato, tu che sei una vecchia volpe del calcio però ti emozioni in queste occasioni con partite di cartello? Beh, le partite di cartello danno sempre emozioni, già stiamo assistendo a una bella partita maschia, si vede proprio che tutte e due vogliono il risultato, io mi auguro soltanto che fino alla fine sia una partita veramente giocata sul piano della lealtà e basta questo. E comunque da questa partita, anche se siamo solo alla terza giornata del Giro di Ritorno, probabilmente uscirà la reale antagonista di quel San Calogero Schiacciasassi che viaggia con circa sei punti di vantaggio sulla seconda e sulla terza ma che comunque dovrà sicuramente fare i conti con la compagine di Mister Pisano e con quella di Leo Viterbo. Intanto si riprende con una rimessa laterale quando siamo giunti al tredicesimo minuto di gioco del primo tempo e il risultato è ancora di 0-0. Recupera ancora la Vigor Lamezia che sta giocando con personalità, prendo conto che appunto è in trasferta e conquista una rimessa laterale all'altezza della panchina di Mister Pisano con Antonelli che arretra di qualche passo prima di effettuare appunto il rilancio lungo. Colpo di testa di Calidonna con Zaffino che viene anticipato a una marcatura arcigna su di lui di Conide. Ancora si impegna Zaffino per conquistare il pallone e alla fine spintona Ienco e quindi si riprenderà con una punizione in favore del Montepaone. Leo Leto, cosa sta dicendo Mister Pisano? Lo vedo pensieroso, concentrato come al solito? Sì, concentrato e soddisfatto in questo momento della prova dei suoi qui in difesa per come riescono ad organizzarsi e soprattutto chiede di non protestare per le decisioni del signor Riccio e sta chiedendo sempre ai ragazzi di stare concentrati sulla partita e di non perdersi in protesta. Grazie Leo, intanto Barba entra con decisione anche se dopo il fischio su Salvatore Procopio. Mister Sestito, questo è uno di quegli interventi dove il terzino dice all'attaccante ricordati che ti sarò sempre addosso. Sì, è un intervento precipitoso, quindi il ritardo sul pallone e quindi si va a caccia dell'uomo. E intanto vediamo che ci sarà quindi punizione in favore del Montepaone e io non posso fare a meno di una tradizione del disturbo a Maurizio Vatrano che si è allontanato con un suo discepolo ma sta seguendo la partita. Maurizio, oggi si gioca un bel pezzo di campionato. Sicuramente, perché siamo le due squadre che rincorriamo una corazzata a questo punto perché non fallisce un colpo. È una partita difficile, giocata soprattutto sul tema tecnico. Penso sia la squadra più tecnica che è venuta qui al Mannis. Vediamo, bisogna stare attenti soprattutto sui calci piazzati. Grazie Maurizio, ti disturberemo il meno possibile, se lo puoi, mister Pisano che dice. Parte intanto su Cannistra viene battuta questa punizione. Il lancio in profondità vede un attento Antonelli controllare che la palla finisca sul fondo. L'unica cosa strana di questa giornata è che questo match sia del Girone C di prima categoria. Io lo vedrei bene anche in eccellenza una partita del genere. E quindi auguriamo comunque a entrambe le formazioni, alla Mezzia per la sua tradizione e al Montepaone per la sua forza e anche tradizione di poter arrivare magari insieme a questi successi, a queste vette. Ci sarà una rimessa laterale in favore del Montepaone. Il numero 3, Ienco, che l'ha effetto in direzione di Marco Voci. Anche lui è sorvegliatissimo. Vediamo un raddoppio della marcatura tra Andricciola e Antonelli sul bomber con 11 reti del Montepaone. Montepaone ha ancora una rimessa, si guadagnano metri e Ienco che l'ha effetto a movimento con Domenico Voci che tocca ancora a Ienco che mette il turbo, accelera ma questa volta finisce il campo e quindi non si può produrre la sua accelerazione del giocatore. Mentre vediamo anche un attento ciclista col casco, quindi tutto in regola, che percorre la pista d'atletica del Frabotto-Mannis. E questo è il calcio che ci piace dove i bambini alla fine si divertono in ogni maniera. Intanto è Maruca che si prepara a effettuare la rimessa dal fondo. Il pallone arriva in alto, viene colpito di testa, anzi no c'è una spinta. E noi salutiamo intanto Giuseppe Ranieri che ormai ha trovato il suo salottino in tribuna stampa e non viene più vicino a noi. Giuseppe, emozionato per questa partita, come Mimmo Cosentino. Il big match della diciottesima giornata è proprio qui a Montepaone. La seconda e la terza forza del campionato si affrontano per la seconda posizione. Giuseppe, ci saranno fotografie della splendida coreografia degli Ultras del Montepaone sulla Gazzetta del Sud domani? No, saranno solo delle squadre in campo. Però meritavano perché veramente da vecchio cuore Ultras mi sono emozionato a sentire un bandierone sulla mia testa e a vedere tanti ragazzi che accendevano i fumogeni. Ancora Ienco che recupera, mette in mezzo, la palla viene svirgolata dal numero tre. Domenico Voci sul corto rinvio di Iannazzo per poco non arriva con un tap-in e alla fine il pallone finisce in calcio d'angolo. Leo, poteva essere un'occasione importante? Poco fa, mister Pisano ha detto ai suoi di lavorare molto sulle fasce e pronto dalla fascia è partita l'azione pericolosa del Montepaone. E intanto Fiorentino appoggia per Mellace che controlla il pallone, mette ancora in mezzo, esce Maruca con sicurezza e in due tempi fa su il pallone e fa ripartire il contropiede con il Montepaone. Forse preso un attimo in velocità, Mellace però con le sue bellissime scarpette rosse va a chiudere, si prende l'applauso del folto pubblico e mette la palla in rimessa laterale. Mister Sestito, un Maruca che ha visto la situazione e ha lanciato lui il contropiede. Sì, ha visto che in quel momento il Montepaone era molto sbilanciato in avanti e ha visto il suo compagno smarcato e l'ha servito proprio, è una cosa secondo me studiata anche prima, anche perché ha lanciato un giocatore molto veloce e infatti se non fosse stato per il recupero prodigioso di Mellace la cosa avrebbe potuto creare sei grattacapi al Montepaone. Dico male se dico che Mellace ha fatto la diagonale? Sì, più che la diagonale diciamo che ha salvato una situazione molto pericolosa. Grazie a Mister Sestito, ora sarà Conidi e in questo caso Scarpe Verde Anas che appoggia per Gianmarco Lombardo che poi allarga per Cannistra ormai un pilastro, un misto tra Bonucci e Chiellini per stazia fisica e anche qualità di gioco dal punto di vista tecnico. E ancora riparte il fraseggio manovrato del Montepaone con il numero 5 Conidi che cerca l'imbucata profonda con Procopio, molto bravo in questo caso Maluccio che di sinistro, probabilmente il suo piede preferito riesce a arpionare, a stoppare la palla e a far ripartire la Vigor Lamezia scucchiaiata di Conidi, colpo di terza di Tarsia ora si apre il gioco su Mellace che senza guardare cerca Ienco ma trova un ottimo Antonelli a chiudere attenzione perché Zaffino se n'era andato ma in questo caso commettendo fallo su Cannistra e quindi con una punizione in favore del Montepaone. Leo c'era il fallo? Sinceramente stavo guardando i due allenatori non guardavo l'azione, so soltanto che Mr. Viterbo e l'intera panchina si sono alzati a protestare sinceramente dirti se c'era il fallo non l'ho visto. Ecco Leo almeno se guardavi delle ragazze invece addirittura guardavi Mr. sei proprio lì in campo tra poco ti passano la palla, occhio. Ecco che Cannistra lancia ma si chiude in posizione in questo caso difensiva Simone Calidonna il pallone arriva in out, scavalca anche il nostro pantalone eletto e sarà ora Ienco a recuperare la sfera per effettuare la rimessa laterale e in questa occasione notiamo che Cannistra presenta ancora quel fastidioso problema al dito che lo costringe a una fasciatura per poter evitare dei colpi. Apertura di Procopio e cerca di chiudere per Domenico Vosci ma anche in questo caso Antonelli fa buona guardia e probabilmente c'era anche il fuorigioco approfittiamo in Mimmo Cosentino che ha due monitor davanti Mimmo c'era il fuorigioco? Si era nettissimo, l'arbitro l'aveva visto però aveva lasciato continuare l'azione e poi l'ha fischiato comunque il fuorigioco c'era Ed ecco che riparte appunto Maruca la palla supera abbondantemente la metà campo colpo di testa, paparazzo la raccoglie scambia con Marco Voci gli strappa anche un pezzettino di caviglia il numero 5 Antonelli ma sempre regolarmente e poi probabilmente Andricciola si porta avanti il pallone con la mano per ora è già uscito e quindi si riprenderà con una rimessa laterale Leoleto fisicamente come sono messi i giocatori della Mezzia? Dall'alto sembrano tutti ben piazzati Non ti sbagli Giorgio sono tutti ben piazzati soprattutto quelli della parte difensiva mentre gli altri, quelli avanti, sono più piccoli Forse Zaffino quello che unisce a un baricentro basso anche le attitudini da rapace di aria di rigore tu che ne dici? Dicevo se Zaffino era un rapace dell'aria di rigore Sì esatto rapace dell'aria di rigore E intanto riparte Cannistrat controlla il pallone lo appoggia in direzione di Procopio che si gira e gli restituisce la palla Sinistro profondo di Cannistrat con Barba che fa buona guardia anche se è disturbato da Marco Voci che quasi sfruttando anche il fisico nonostante Barba sia più alto per poco non gli sottrae appunto il pallone e quindi Maruca che si prepara a rinviare appoggiandosi su Maluccio che ricordiamo gioca prettamente di sinistro allarga appunto la sfera Maluccio riparte la Vigor Lamezia scambio tra Iannazzo e Nyang poi recupera ancora Siciliano si riporta sull'estrema sinistra quasi sull'out poi scodella la palla al centro Zaffino cerca la Veronica bello il tiro di Zaffino Lombardo lo battezza fuori e fa bene però buono il gesto tecnico di Zaffino Giuseppe Zaffino uomo da quasi 20 gol 17 fino ad oggi beh sì non lo scopriamo oggi è un calcettore che in questo campionato ha già avuto modo di esprimersi e non è una sorpresa per cui assisteremo sicuramente ad una bella partita perché già dall'inizio le due squadre hanno già mostrato i denti al centro e sarà sicuramente una bella sfida Giorgio Intanto Domenico Voci modello Pirlo va a prendersi il pallone poi lo scarica su Cannistrà che scambia con Marco Voci si inserisce Tarsia e scodella verso Zaffino che riesce a stoppare la palla molto elegantemente spalla alla porta si gira ma viene contratto da un ottimo paparazzo Tarsia ancora in mezzo ma c'è Conidi sua maestà dei colpi di testa che blocca la palla riparte ancora in Lamezia con Nyang che ha due uomini su di sé mette la palla in mezzo per Calidonna ancora un tocco all'indietro e poi Nyang tenta la soluzione Mancina ma viene murato da un ottimo Cannistrà e la palla finisce in rimessa laterale siamo intanto giunti ai nostri cronometri intorno al ventiquattresimo del primo tempo il risultato è sempre fermo sullo 0-0 ma certamente una partita che vede in vigore Lamezia e Montepaone darsi correttamente battaglia arriva Tarsia che alza un po' la gamba su Marcellino poi ci pensa Fiorentino a rilanciare per Procopio che appoggia per Marco Voci fa buona guardia ancora Antonelli rilancio alla Viva il Parro con colpo di testa di Nyang che insieme ad Andricciola travolge l'Eylander Mellace e il Montepaone conquista un calcio di punizione mister Sestito quale potrebbe essere una mossa non vedo molte proiezioni in avanti di Francesco Fiorentino probabilmente anche lì Leo Viterbo ha messo degli accorgimenti no diciamo che la Vigo della Mezza accorcia bene mette in difficoltà i giocatori del Montepaone ad imbastire le loro azioni secondo me la chiave per il Montepaone sarebbe di alzare il ritmo perché dal punto di vista della potenza della fisicità la Vigo della Mezza è superiore però appunto paga d'azio sulla rapidità sulla velocità e quando il Montepaone accelera riesce a imbastire azioni in velocità mette in difficoltà la Vigo della Mezza e solo in questo senso secondo me il Montepaone può incanalare la partita a suo favore la deve aumentare i ritmi e giocare molto sulla velocità per mettere in crisi la Vigo della Mezza perché sulla fisicità la Vigo della Mezza è superiore intanto recupera Cannistrat tocco per Domenico Voci e poi ancora per Cannistrat con pressing articolato alla Vigo della Mezza e Tarsia che ancora la ribatte Nianco che va a dare fastidio a Domenico Voci il tocco per Andricciola si chiude ancora il Montepaone doppio rimbalzo ancora Andricciola tuffo tuffo di Andricciola è giusta l'ammunizione probabilmente da parte da parte di Ricci vediamo cosa succede Leo che cos'era un tuffo e ci sarà probabilmente l'ammunizione Leo Leto mi senti è stato un tuffo mi sembra e ci sarà probabilmente l'ammunizione pronto Giorgio mi senti si chiedevo se quello di Andricciola è stato un tuffo e mi sembra che l'arbitro lo voglia ammonire ha il cartellino il cartellino giallo in mano ma io sinceramente non ho visto nemmeno il fallo da qui è sembrato più un tuffo poi potrò anche sbagliarmi no ma sembrava sembrava lo stesso anche a noi e probabilmente ora che si rialza lo ammonirà perché è proprio stato un tuffo modello striscia o striscione ti sento male Giorgio e allora potenzieremo potenzieremo i nostri mezzi però allora al prossimo collegamento e vediamo ecco ora da annotare probabilmente l'ammunizione per Andricciola quando siamo giunti appunto al 27esimo minuto di gioco forse 26esimo una manciata di secondi e quindi viene punita la simulazione con punizione in favore del Montepone con Canistra che si prepara appunto a calciare a calciare di destro ecco che si riprenderà Fischiaricci e viene lasciata l'incombenza a Gianmarco Lombardo che sia pure in una posizione degli attaccanti di fuorigioco ha già sfoderato un ottimo intervento con una parata su un tiro abbastanza complesso la palla arriva verso Fiorentino combattimento con Niang gli viene poi rubata la palla da Tarsia che recupera però ancora il pallone si destreggia e cerca di imbeccare Zaffino il rilancio vede l'intervento deciso di Barba non si fanno troppi fronzoli in difesa da parte della Vigor Lamezia apertura per lo scatto di Paparazzo però recupera ancora il Monte Lamezia con però Mellace che ruba palla di sinistro si ferma ragiona e apre per Domenico Vosci vede Fiorentino allarga subito il gioco parte l'Iksteiner del Montepaone finalmente una proiezione sulla destra con Marcellino che gli porta via l'avversario il pallone arriva verso Paparazzo stop di petto fucilata ribattuta della difesa del Vigor e si riparte ancora però con il Montepaone che ha alzato il baricentro ancora Fiorentino mette la palla in mezzo Marco Vosci squizzicata e uscita sull'arrivo di Salvatore Procopio da parte di un attento Maruca è un Lamezia arrembante però direi che un Montepaone che quando gli viene dato spazio riesce comunque a ragionare a creare delle trame offensive molto pericolose il rilancio fa impennare il pallone con Procopio che si gira viene buttato giù da un'andricciola di rompente e alla fine la punizione viene assegnata per aver trattenuto il pallone in favore della Vigor Lamezia con Tarsia che lascia il compito a Maluccio Maluccio apre per Siciliano riceve la palla a qualche metro di libertà il numero 7 della Vigor Lamezia ha di fronte a Semellace si ferma arretra e tocca per Antonelli Antonelli a sua volta cerca il lancio in aria esce con le mani sulla testa di Zaffino un ottimo Gianmarco Lombardo e il pallone viene ribattuto ma non c'è un attimo di tregua con Maluccio che allarga verso Iannazzo Iannazzo per Niang si è lanciato da solo Iannazzo e si è lanciato però troppo in profondità e la palla finisce in out vediamo se ora ci sente Pantaleone Leto si Giorgio facci un focus sui due allenatori un focus su due allenatori Leo si questo ti stavo dicendo sul rilancio di Lombardo mister Pisano si è molto arrabbiato in quanto voleva che giocasse la palla con i suoi compagni e andare avanti come stanno facendo in questo momento poi sta chiedendo costantemente ai suoi ragazzi di giocare sulle fasce infatti quando riescono a giocare sulle fasce vediamo che il Montepone riesce a portarsi in area di rigore e rendersi pericoloso grazie Leo intanto c'è Barba che si conquista una munizione per un intervento deciso su Salvatore Procopio viene applaudito questo intervento dell'arbitro da parte dei tifosi diciamo mister Sestito che così insomma l'arbitro ha voluto dire a Barba di essere meno irruente eh sì in effetti era in più di un'occasione ha fatto degli interventi un po' fuori tempo e la munizione ci stava Barba modello Sergio Brio di qualche anno fa importantissimo ma sicuramente che fa sentire molto la sua presenza dal punto di vista fisico sarà il destro della scarpa gialla di Capitan Paparazzo a calciare questa sfera marcatura in questo caso a uomo ci sono una serie di blocchi in area di rigore arriva la parabola Maruca ci mette il pugno quando il pallone stava per entrare nel sette deviazione in calcio d'angolo sicuramente una parabola di quelle velenosissime si è sbrigato bene ha sbrigato bene il proprio compito il portiere della Mezzia andando appunto a mettere in calcio d'angolo un tiro che poteva diventare veramente pericoloso ci si prepara il consueto schema con Domenico Voci Fiorentino e Mellace che si muovono questa volta però il cross di Mellace viene contratto da Zaffino e quindi si riprenderà con una rimessa laterale subito affidata da Fiorentino per Mellace che mette in mezzo si impenne il pallone Andricciola lo rinvia e poi tenta il tiro di sinistro con Idi però finisce lontano dalla porta difesa da Maruca anche qui mi sa Giuseppe che domani sia la Gazzetta del Sud che il quotidiano dovranno dare molto spazio perché ci sono tante cose da raccontare purtroppo no perché comunque per quanto settimente attiene alla Gazzetta io ho i canonici venti righi quindi venti righe bisogna dire tutto è sbagliato perché sinceramente un match del genere meriterebbe almeno il doppio però purtroppo dipendiamo dalle redazioni ma noi che ti leggiamo sappiamo apprezzare anche la tua capacità di dire tutto in venti righe beh con una compiuta capacità di sintesi si può fare intanto è partito Ienco però il lancio non viene intercettato da voci e quindi la palla finisce rimessa laterale con Antonelli che effettua appunto questa rimessa appoggiandosi per Siciliano ancora per il tocco per Andricciola la deviazione però ancora una rimessa laterale in favore del Vigor Lamezia Leoleto mi sembra che stiano guadagnando metri sembra anche una partita di football dove sono importanti le yard che percorri e i metri che recuperi si stanno guadagnando metri con il Montepaone che ora c'è un fallo questa volta è arrivata l'ammunizione se non sbaglio per Marcellino Giorgio vai con la cronaca poi si Marcellino per un intervento su Tarsia stesso metro di giudizio e quindi giusta la valutazione di Ricci che così come ha ammonito Barba ha ammonito anche il fuoricuota Marcellino per un intervento deciso e quindi ci sarà un'altra punizione di quelle al vetriolo di Antonelli con una mischia un grappolo umano al centro dell'area di rigore vediamo che appunto ci sono anche parecchi blocchi come in Serie A quindi gli schemi sono studiati vediamo Niang che si pone accanto appunto a un compagno ci sembra Maluccio e poi si libera movimento in area di rigore Antonelli e colpo di testa però di Marco Voci e dal punto di vista della contraerea il Montepaone riesce sicuramente ad arginare gli attacchi della Vigor Lamezia stop di paparazzo Marco Voci tutto di prima per Marcellino esce Maruca e di testa anticipa Marcellino su una palla che danzava tra entrambi i giocatori e che poteva diventare interessantissima per lo scatto veloce del numero 21 della squadra di casa che appunto si era proiettato in una situazione che poteva diventare molto interessante ecco Conidiker controlla il pallone si prepara al cross parabola lunga colpo di testa in uscita dalla difesa della Mezia con Zaffino che ruba palla di tacco punta l'avversario ha di fronte a sé Cannistra cerca di andarsene non si passa The Wall che prende anche una marea di applausi perché nonostante la velocità di Zaffino è riuscito Cannistra a bloccarlo e a evitare che potesse partire in progressione recupera ancora Domenico Voci che tocca per Procopio si gira intercettato da un ottimo intervento di Maluccio con Tarsia che ruba palla anche Andricciola Marco Voci aveva preso il pallone e probabilmente Ricci ha notato un fallo e Leto dal campo si è visto il fallo o era fuorigioco? Si è visto forse un fallo si è visto forse un fallo Giorgio il fuorigioco non penso si trattasse di fuorigioco comunque si è molto arrabbiato in questa fase mister mister Pisano per per questa azione fermata in questo modo dall'arbitro mentre devo dire che mentre all'inizio della gara la panchina dei ospiti era molto molto vivace che si alzavano in massa a protestare adesso li sono molto più calmi perché poco fa l'arbitro è passato davanti alla panchina dicendo all'allenatore se non state calmi vi mando fuori ed è questo il valore aggiunto del bordo campista che ci dà anche queste informazioni che dalla tribuna non riusciamo a cogliere grazie Pantalone Leto recupera ancora Siciliano punta l'avversario ancora Petri nel pallone mette in mezzo la parabola attenzione Cannistrà impreciso nel rilancio poi ci pensa Fiorentino a perfezionare il rinvio ma ancora Tarsia che di petto recupera il pallone cerca appunto un lancio in profondità la palla si impenna viene protetta da Andricciola ma Mellace con l'aiuto di Marcellino di Eraruba e poi ancora attenzione un tocco sbagliato da parte di Conidi che però poi subito mette una toppa al suo errore e Leo abbiamo visto mister Pisano che è uscito di 5-6 metri dall'area tecnica si tutti e due gli allenatori in questa fase si sono arrabbiati mister Pisano per l'errore del suo ragazzo ovviamente il mister della Vigor mister mister Viterbo perché il suo ragazzo non è riuscito a concretizzare l'occasione ancora Mellace che ribatte di testa riparte in velocità il Montepaone con Marcellino che con grande esperienza conquista il fallo visto che nessuno della sua squadra l'aveva seguito e quindi si riprenderà con una punizione anche se Calidonna a sua volta tutti questi fuori quota che però mostrano grande personalità esperienza recupera quei secondi che servono per riposizionarsi ancora Domenico Voci prezzato da Andricciola tocca per Lombardo che è prezzato a sua volta da Andricciola che ha continuato a correre mette la palla in rimessa laterale con Niang che appunto va a recuperare il pallone ma non sarà sicuramente lui effettuare la rimessa perché in quella zona è l'esterno basso di sinistra in questo caso Iannazzo che si prende il compito di effettuare appunto la rimessa con le mani tocco verso Zaffina Franco Bollato Domenico Voci appoggia per Conidi e ancora Zaffino che però va a recuperare il pallone forse troppo troppo fuori Mister Sestito qualche leggerezza nel fraseggio difensivo del Montepone può diventare pericolosa il Montepone è una squadra che cerca sempre di costruire anche dal basso però in questo caso il difensore essendo molto prestato poteva magari sì fare una giocata un po' meno rischiosa intanto Mellace vince il Teckel con Niang supera la metà campo lancia per Marco Voci Marco Voci tirò miracolo miracolo di Maruca che con la mano sinistra va a prendere un pallone che lo stava scavalcando a dire la verità c'è stata anche una trattenuta iniziale per Marco Voci ma sappiamo che il bomber del Montepone è uomo anche lui di campo non è caduto ha continuato ha puntato la porta e gli ha dato una grande risposta a Maruca distendendosi sulla propria sinistra e togliendo un altro pallone importante dalla possibilità del Montepone di fare rete Mellace colpo di testa di Tarzia sul calcio d'angolo Niang arpiona il pallone con eleganza lo scambia con Zaffino che parte in velocità mette il turbo a sud di sé Fiorentino ritorno di Mellace che sta svolgendo un ruolo di contenimento importantissimo in questo caso commette fallo fa rifiatare la propria squadra e quindi si riprenderà con una punizione in favore del Vigor Lamezia che dovrebbe essere battuta di sinistro e di competenza del numero 6 Maluccio che si prepara appunto all'altezza proprio della linea di centrocampo a calciare appoggiando per Tarzia Tarzia scambia con Maluccio che appoggerà a sua volta per Barba si allarga anche qui in ampiezza la Vigor Lamezia Barba va a cercare Iannazzo il colpo di testa però ad anticiparlo e di quel Fiorentino che anche se quest'oggi in attacco non sta producendo moltissimo rimane una certezza per il Montepaone ancora elegante il disimpegno di Maluccio e ancora una volta c'è un triangolo con il fallo di Fiorentino e Ricci che ora non riesce più a evitare di estrarre i cartellini gialli quando se ne straggono troppo e troppi Mimmo nel primo tempo non è mai un buon segno no non è un buon segno perché poi si può incattivire il secondo tempo e la partita comincia a degenerare Leo cosa ha detto mister Viterbo abbiamo visto che salutava qualcuno o dava delle indicazioni sì sì ha detto come sistemarsi su questo calcio di punizione se non sbaglio parlava con Calidonna stava dicendo di portarsi in aria infatti lo vediamo sta parlando ancora con lui Calidonna sta girando largo per entrare in area di rigore vai Giorgio parte la parabola Gianmarco Lombardo con freddezza che fa tirare un attimo un sospiro a tutti i tifosi arpiona la palla a sua volta e quei guantoni sembra che abbiano la colla perché il pallone poi non si schiode più ecco che Cannistra riceve la spera Mellace gliela chiede ma preferisce appoggiarsi a Lombardo e poi allargare per il numero 5 con Idi riparte ancora l'azione sulla destra del Montepaone con una serie di movimenti tendenti a sviluppare l'azione stessa con Fiorentino questa volta però Andricciola ruba palla a sua volta Domenico Voci la tocca e di destro Maluccio appoggia in direzione Iannazzo però non riesce a far partire Niang per l'intervento provvidenziale in questo caso in zona d'attacco da parte di Fiorentino e ancora Iannazzo che rimette con le mani ma Fiorentino anzi no si tratta di Marcellino interviene con decisione ci sarà un'altra rimessa quando al nostro cronometro siamo intorno al quarantunesimo nel primo tempo con il risultato ancora a reti bianche tra Real Montepaone e Vigor Lamezia colpo di testa di Fiorentino recupera Siciliano ruba palla si porta sulla sinistra allarga il gioco cercando poi di puntare Fiorentino che però lo bracca con decisione rimbatte il pallone Tarsia recupera di fronte a sé Paparazzo il pallone si impenna e finisce in out con il recupero del pallone da parte dei valenti raccattapalle del Montepaone Giuseppe come lo vedi questo primo tempo fino adesso? Sicuramente combattuto sin dall'inizio le due compagini hanno mostrato a vicenda i denti hanno combattuto bene sul centro è una di quelle gare dove chi segna per primo può aggiudicarsi l'intera posta in palio ed è spettacolare si muovono bene entrambe le squadre tengono bene le posizioni le difese sono coriace per cui è un incontro davvero tra seconda e terza Andricciola e Calidonna rubano palla con Ienco che cerca di dare fastidio a Calidonna che però supera addirittura anche Mellace triplicata la marcatura non c'è fallo secondo Ricci si combatte con vemenza ma con correttezza Nianca su di sé Marcellino cerca di puntarlo ma lì c'è Mandzukic Procopio che in ripiegamento difensivo lo bracca e gli toglie alla fine il pallone allargata la sfera per Andricciola e vediamo che Leo mi sa che Leo Viterbo tuo omonimo non lo tiene più nessuno è proprio un po' imbufalito sì Viterbo sta orlando da ormai due minuti ai suoi di giocare la parda è di stare largo chiedeva a Nianca di andare largo qui sulla fascia cosa che il ragazzo aveva fatto ci aveva provato ma la palla è arrivata lunga è determinata in fallo laterale intanto non si capiscono Andricciola e Tarsi il pallone finisce in rimessa laterale toccherà a Ienco recuperare il pallone chiaramente Leto poi ci saluti Sasai Apello che è l'operatore dal campo con la stand quindi sta facendo un lavoraccio spero si sia messo come ha detto l'arbitro la Salopet quella rossa per distinguersi però attenzione perché il colpo di testa di Conidi impedisce va bene appena lo vedi salutamelo ecco ancora un tocco per Siciliano che deve tornare indietro per allargare il gioco ottima l'apertura di Siciliano in direzione di Annazzo ma c'è un grande recupero di Marco Voci che poi si appoggia su Fiorentino che cerca di partire ma viene subito bloccato da Tarsia quindi si deve liberare del pallone in una zona di competenza di Maluccio con Marcellino e Procopio che vanno a pressare ruba palla Marcellino Procopio esce con decisione sul pallone Maruca e anche qui se Procopio si fosse gettato forse ci sarebbe stato bisogno della VAR però deciso e preciso in questo caso l'intervento di Maruca ma il Montepaone non demorde il lancio a cercare Marco Voci Barba colpisce di testa ancora Domenico Voci che recupera il pallone ha di fronte a Senyang che però non gli dà spazio si deve girare allarga poi il pallone all'indietro per ragionare su Fiorentino e quindi si riprende con l'azione del Montepaone ancora Domenico Voci che riceve il pallone sovrapposizione di Fiorentino arriva sul fondo punta Maluccio mette in mezzo e c'è un signor Maruca che fa il suo la palla chiudendo questa possibile azione pericolosa da parte del Montepaone mister Sestito tutto molto bello sì sì un'azione perfetta ben manovrata poteva poteva avere una riuscita migliore Leoleto ha segnalato recupero l'arbitro per caso? ancora non ho visto la segnalazione di nessun recupero appena siamo praticamente al quarantacinquesimo in questo momento ma non ho visto l'arbitro a segnalare il recupero o quantomeno non me ne sono accorto non so se l'ha fatto e intanto un raggio di sole illumina Leo Leto il bordocampista di fiducia di S1 TV mentre la Mezzia continua ad attaccare sulla sinistra con Iannazzo che punta Fiorentino cerca di andarsene il tiro risulta comunque velleitario e a questo punto diciamo che probabilmente anzi ecco segnala il recupero Leo io da qui non vedo bene dovrebbero essere tre minuti o due due minuti di recupero Giorgio anzi mi correggo è un minuto di recupero ok allora si giocherà ancora per un minuto come ha segnalato il signor Ricci con questo calcio d'angolo il primo dalla sinistra zona d'attacco del Vigor La Mezzia con però sempre Antonelli che calcerà presumibilmente con la parabola a rientrare visto che calcia di destro anzi no lascia a Iannazzo e notiamo appunto il marcamento a uomo Iannazzo e Antonelli stanno dialogando probabilmente ci sarà uno scambio parte la parabola di Antonelli mischia in aria colpo di testa di Fiorentino e la palla finisce di nuovo in out con una rimessa laterale in favore della Vigor La Mezzia che schema sta chiamando Leo Viterbo Leo mi sembra che stia chiamando uno schema ecco si è probabilmente vicinissimo a Pantaleone Leto e quindi non possiamo dire subito quali sono le azioni che richiede Leo Viterbo parte intanto Iannazzo lunghissima gittata Barba colpisce di testa Procopio che però subisce fallo da parte di Niang in elevazione e signor Ricci manda tutti negli spogliatoi Leo fino ad ora che partita è stata secondo te? Allora una partita molto compattuta da entrambe le squadre che ci hanno provato in tutti i modi la Vigor che forse ha avuto una maggiore preminenza in avanti che si è stata più costante nella centrocampo del Monte Paone ma le azioni pericolose le abbiamo notate sono quelle del Monte Paone se andiamo a guardare il portiere Lombardo non ha dovuto fare nessun intervento mentre invece il portiere Maruca della Vigor ha dovuto fare tre importanti e decisivi interventi Leo se ci riesci lo prendi al volo il portiere Maruca che sta passando proprio vicino a te vediamo se ci dice per fargli i complimenti ecco giustamente i complimenti grazie sei eccezionale Leo ha detto dopo ok allora noi diamo appuntamento dopo Leo un te caldo in panchina io lo prendo in tribuna ci vediamo tra poco gentili telespettatori benvenuti al Frabotto Mannis di Monte Paone il campo comunale per il secondo tempo del match tra Real Monte Paone e Vigor La Mezzia con il risultato che è ancorato sullo 0 a 0 dopo i primi 45 minuti e l'esterna 65 di S1 TV che vi saluta con Antonio Siciliano Pasquale Lentini Pantaleone Leto Maurizio Vatrano Giuseppe Ranieri Sasai Apello con appunto i collegamenti anche da bordo campo e con la voglia di raccontarvi un secondo tempo di un match di cartello di questa terza giornata di ritorno della prima categoria calabrese Girone C che finora ha regalato parecchie emozioni che agli ordini del signor Ricci di Catanzaro probabilmente ce ne regalerà altre tante a questo punto io chiamerei subito in causa il nostro bordocampista principe Pantaleone Leto che salutiamo per sapere Leo ci sono sostituzioni alle viste? Le squadre stanno rientrando in campo al momento non vedo non vedo cambi Giorgio ti aggiornerò appena saranno tutti in campo fino adesso sono rientrati solo quelli che hanno giocato nel primo tempo quindi appena saranno tutti gli undici in campo ti saprò dire se ci sono stati cambi o meno E ti sta passando vicino probabilmente anche Gianmarco Lombardo quindi hai fatto con Maruca faglili in bocca al lupo da parte di SOTV di tutti gli Ultras mi sembra che Gianmarco Lombardo sia lì all'altezza della panchina quindi se non lo disturbi digli in bocca al lupo ecco non so se è già passato forse è già passato è già passato ecco che se n'è andato stava bevendo manteniamo la concentrazione dei calciatori e vediamo appunto che il signor Ricci sta per dare il via alla seconda parte di questa partita sta controllando che tutto sia a posto noi siamo pronti con il taccuino in mano e il cronometro pronto per segnare l'inizio del match quindi le formazioni restano le stesse quelle che hanno visto i giocatori lottare nella prima frazione di gioco ricordiamo il risultato è sempre di 0 a 0 e ora godiamoci questi secondi 45 minuti ok a Maruca ok a Lombardo e fischietto in bocca e vediamo che il signor Ricci aspetta che tutti si siedano in panchina si parte e quindi altri 45 minuti con le seguenti formazioni Maruca Barba Iannazzo Tarsi Antonelli Maluccio intanto arriva un pallone lungo che finisce oltre la trasversale Siciliano Andricciola Zaffino Niang e Simone Calidonna per la Vigor Lamezia dall'altro lato in questo caso attaccando da sinistra verso destra per quanto riguarda il Montepaone Lombardo Fiorentino Ienco Mellace Conidi Cannistrat Paparazzo Marco Voci Procopio Marcellino e Domenico Voci ed è proprio Conidi che dà il via all'azione come di consueto ragionando insieme a Gianmarco Lombardo che allarga per Cannistrat è una morsa quella che poi tra Conidi e Cannistrat si stringe intorno al bomber Zaffino ricordiamo che il Montepaone in serie uti attenzione il lancio è per Marcellino leggermente lungo con Iannazzo che riesce a chiuderlo e la palla si impenna dove Fiorentino e Niang vanno a combattere tutto di fisico alla fine Fiorentino per poco non riesce ad averla meglio ma è siciliano che recupera il pallone dicevamo che il Montepaone è in serie positiva da sei partite sei turni appunto di vittorie consecutive e c'è intanto il signor Ricci assegna una punizione in favore del Montepaone non mi sembra Leo che mister Viterbo sia d'accordissimo no infatti ha protestato dicendo che non si trattava di fallo e quindi lo hai visto anche da sopra era molto molto agitato per questa chiamata del signor Ricci intanto ecco che Marcellino recupera il pallone lo mette in mezzo smanaccia Marco Voci solo un rigore in movimento sul corto rinvio di Maruca e Marco Voci l'ha messa alta sulla traversa un pallone per quanto c'era un difensore che gli si è lanciato addosso e qui non ha potuto organizzarsi bene dal punto di vista del corpo mister Sestito un gol difficile da sbagliare sì purtroppo sì e purtroppo per il Montepaone invece l'ha sbagliato la la precipitosità e il corpo un po' sbilanciato all'indietro non hanno permesso a Voci di colpire nel migliore dei modi il pallone e intanto vediamo che Maluccio è uscito con decisione su Salvatore Procopio quindi giusta segnalazione all'arbitro punizione ma certamente il Montepaone è sceso in campo ricordandosi appunto di essere la squadra di casa e quindi cercando di imporre il proprio ritmo a una squadra la Vigor la Mezzia che in trasferta fino a oggi non ha mai perso e ricordiamo che all'andata il risultato è stato a reti bianche in quel del Dippolito tra le due compaggini Leo vedo molto movimento si sta scaldando metà panchina del Montepaone e quasi tutta della Vigor la Mezzia si Giorgio ti stavo proprio per chiamare per dirti che su entrambe le panchine ci sono grandi movimenti tutta la panchina della Vigor è in piedi da ormai due minuti si stanno riscaldando tutti gli effettivi mentre due del Montepaone hanno iniziato il loro riscaldamento un minuto fa e intanto c'è un fallo per gamba tesa su Tarsia prontamente segnalato dal signor Ricci e quindi si riprenderà con Maluccio che appoggia per Barba mentre si muove sulla destra Iannazzo ma Barba preferisce servire a sinistra in una zona dove colpisce di testa Fiorentino mellace con Zaffino che alza troppo la gamba e appunto mette in condizioni Ricci di fischiare la punizione Giuseppe Ranieri è un bel inizio di secondo tempo Sì perché il pareggio non sta bene né all'una né all'altra squadra per cui lotteranno fino alla fine sicuramente pensavamo che dopo un primo tempo di questa portata probabilmente all'inizio del secondo le squadre sarebbero state più calme sul centro per sfruttare l'occasione giusta ma stiamo assistendo comunque ad una partita vera dove non si risparmiano certo i colpi Secondo mister Viterbo non era fuori gioco quello di Zaffino Leo tu come l'hai visto dal campo era oltre gli avversari Da qui da dove siamo messi noi un po' difficile ma mi è sembrato avanti anche se la linea non è quella ideale dove mi trovo io sulla linea di centro campo guardare fino allì sotto non non hai la precisione per stabilirlo però mi è sembrato un tantino più avanti E noi stiamo facendo un silent check mentre intanto parte Marcellino arriva in fondo al campo mette in mezzo non riesce a calciare nella maniera migliore Antonelli rinvia con Andricciola che recupera la palla gli è la strappa strappa Cannistra arriva si prepara il cross di destro arriva la parabola Procopio di testa e la palla però si impenna e finisce alta dicevamo che stavamo facendo un silent check con la VAR effettivamente una situazione al limite ma probabilmente ha detto bene il signor Ricci di Catanzaro e si riprende ora con un calcio di rinvio per Maruca mister Sestito è arrivato in alto Procopio ma non è riuscito a dare il colpo di testa che voleva si non è riuscito a staccare bene come voleva perché diciamo ha staccato quasi da fermo comunque il Montepone è iniziato bene la ripresa al momento è quasi a senso unico per il Montepone se continua così la virgola mezza è molto in difficoltà e potrebbe riuscire a sbloccare la partita intanto ancora un intervento deciso di Tarsia che poi si dà il 5 con Mellace anche siciliano è finito a terra ma tutto con grande fair play grande correttezza si prepara appunto a calciare Maluccio di sinistro il calcio andrà a lungo mentre vediamo che si schiera la difesa è contro sole in questo caso del Montepone lancio con Iannazzo e Fiorentino che cadono entrambi si fanno probabilmente entrambi male c'è stato uno scontro Fiorentino ricordiamo che fino a qualche tempo fa doveva giocare fasciato per un colpo alla testa speriamo comunque niente di grave con il signor Ricci che va a verificare la situazione noi ci spostiamo rapidamente se ci riusciamo senza cadere da Maurizio Vatrano Maurizio Vatrano risorse di ossigeno e posizione fisica del Montepone risorse di ossigeno diciamo che la partita studiata da entrambe le squadre con poco dispendio di energie ci si bada più a non commettere errore perché in questa partita che si gioca proprio sul filo dell'equilibrio un solo errore potrebbe fare la differenza grazie Maurizio intanto riparte la vigor la mezzia con Tarsia appoggiandosi su Maruca che rinvia colpo di testa all'indietro con Calidonna che probabilmente era sul filo del fuorigioco ma si continua a giocare Zaffina recupera la palla non passa perché c'è Mellace recupera il pallone a sua volta Marco Voci che fa sportellate con Tarsia che poi è l'ultimo a toccare prima che la palla rimanga in campo anzi no secondo Ricci e quindi ci sarà una rimessa laterale in favore del Montepone anzi no probabilmente indica Ricci in favore della squadra ospite della vigor la mezzia e quindi prepariamoci a vedere i giocatori bianco-verdi pronti per questa rimessa laterale con Tarsia che lancia verso Zaffina colpo di testa di Conidi si inserisce siciliano ma la palla finisce poi a Nyang che caracolla sulla sinistra si ferma aspetta l'arrivo dei compagni colpo di tacco molto bello in favore di Iannazzo il pallone si impenna e ancora Cannistrà che passa a Domenico Voci che riesce ad anticipare il ritorno di Andricciola e quindi la palla però finisce in rimessa laterale colpo su colpo ribattuto dalla vigor la mezzia che non si fa chiudere dal Montepaone anzi propone trame offensive con mister Viterbo che vediamo chiede il lancio lungo a Iannazzo che appunto ci sembra abbia una gittata notevole come rimessa laterale la palla arriva verso Nyang colpo di testa ancora Cannistrà e poi Fiorentino con i migliori colpitori di testa il Montepaone che sbroiano questa matassa e la palla finisce in rimessa laterale Leo che profumo ha il pallone che ti è passato proprio vicinissimo alla tua postazione sì la palla è arrivata proprio davanti alla postazione c'è stato il recupero l'hanno rimessa in gioco con i due allenatori che in questa fase sono molto molto attivi c'è mister Pisano che continua a dire ai suoi stare attenti a Nyang mentre invece accanto suo mister Viterbo chiede proprio ai suoi di servire Young questi sono i due richiami degli allenatori e permettetemi un ricordo era la fine degli anni 70 inizio anni 80 un giovanissimo pantalone letto che giocava nella Galbiatese lì su in Lombardia e ora invece qui sul campo e vede il pallone passare ma non lo può calciare mi rendo conto Leo che sarai preoccupato intanto il lancio che era praticamente un tiro di Mellace vede però ben piazzato Maruca dicevo Leo ti sei commosso per questo ricordo? Sì Giorgio commosso per questo ricordo di tanti anni fa ecco che si riparte con una rimessa laterale ancora Fiorentino imperioso su Nyang tanto temuto ma finora non è riuscito a mettere nessun sigillo su alcuna azione pericolosa della Vigor la Mezzia decimo minuto di gioco Zaffino ottimo il controllo protegge il pallone evita Conidi però si chiude la morsa dei giocatori del Montepone ecco che Nyang recupera a sua volta il pallone mette in mezzo ma lì non si passa c'è Cannistra e ci sarà calcio d'angolo in favore della Vigor la Mezzia scendono i lunghi vediamo Antonelli che va a battere lui il fromboliere della squadra la Metina appunto e batte tutti i calci da fermo e sono anche qui in questo caso contiamo sei giocatori mentre e alle viste probabilmente una sostituzione Leo qui concentrati perché vedo un giocatore che si scalda sì vicino a me attenzione colpo di testa di Barba la palla si impenna e c'è fallo su Gianmarco Lombardo scusami Leo ti ho interrotto chi è che si sta scaldando c'è Doria che sta per entrare in campo mister Pisano ha chiamato il cambio quindi Doria entra vediamo un po' chi viene chi viene richiamato dovrebbe essere Paparazzo da quello che vedo sì è Paparazzo che esce Paparazzo entra Doria il minuto è l'undicesimo quindi cambio per il Montepaone benissimo e vedi un attimo non penso si possa disturbare Doria se si dovesse allontanare dai un occhio Paparazzo voglio dire però vedo che si stanno riscaldando anche altri giocatori e quindi Doria il Cristiano Ronaldo del Montepaone che entra in campo mister Pisano vuole vincerla questa partita attenzione perché Procopio evita il ritorno di Maluccio che però riesce comunque a proteggere il pallone a farsi fare fallo il cambio Doria Paparazzo mister Sestito come si può interpretare beh sicuramente ha cercato di di mettere un elemento che può dargli una mano a mister Pisano magari anche di dare un po' di energie fresche probabilmente ha visto Paparazzo un po' in affanno il capitano di tante battaglie Paparazzo anche lui applauditissimo dalla torcida del Montepaone con Lombardo che fa ripartire appunto l'azione mettendo la palla in cassaforte tra i piedi di Cannistrac all'altezza e l'aria di rigore Caracolla avanzando e portando avanti il baricentro della sua squadra con Siciliano e Zaffino che cercano di chiudere tutte le linee di passaggio del Montepaone possibili per il Montepaone il colpo di testa di Antonelli vede Procopio che però non riesce a proteggere la palla e la mette la stessa in rimessa laterale rimessa laterale affidata alla Vigor la Mezzia presumibilmente con proprio Antonelli il pallone viene toccato poi per il numero 7 siciliano che lo protegge dall'attacco di Marcellino quadruplicata la marcatura parte Mellace lancio per Marco Voci la posizione è buona è defilato alza la testa vede Procopio al centro dell'aria deve però superare Maluccio che lo sta marcando di sinistro scivola sull'erba umida poi Fiorentino la mette in mezzo Domenico Voci ma c'è un ottimo intervento di Antonelli ma non è finita qui perché recupera ancora ci sembra Ienco che punta l'avversario si accentra mette in mezzo il pallone Barba spazza con sicurezza e questo è il Montepaone tambureggiante che piace tanto ai suoi tifosi che applaudono la volontà dei giocatori di attaccare fino alla fine il fortino eretto dalla Vigor la Mezzia e Marcellino che cade ancora un intervento su Doria tutto regolare per un Ricci vicinissimo all'azione riparte ma Canistra blocca la palla Doria recupera evita un avversario si tratta di Barba poi si appoggia su Domenico Voci ha di fronte a Setarsia ancora Doria si gira e probabilmente c'è un rimbalzo gran tiro gran tiro di Domenico Voci che supera di pochissimo la trasversale Leo quanti centimetri potevano essere? Era vicino vicino la traversa Giorgio comunque mister Pisano molto soddisfatto della sua squadra in questo momento Montepone che sta premendo così come d'altronde aveva fatto in alcuni momenti del primo tempo è comunque un Montepone che fa delle penetrazioni ripetute e cerca appunto di sfondare il bunker retto alla Vigor Lamezza che non si limita comunque soltanto a difendere in quanto fa sempre le azioni manovrate per arrivare poi al raggiungimento di un'eventuale rete stop di mister Viterbo che appoggia poi il pallone per Iannazzo che senza piegarsi lo recupera e effetto appunto la rimessa laterale in favore di Siciliano che fa impennare la palla verso Zaffino ma che si è spostato a sinistra per evitare probabilmente la marcatura di Conidi ci pensa però Mellasce a metterlo giù punizione in favore dei bianco-verdi Lamettini in una zona del campo molto defilata sulla sinistra ma che per Antonelli potrebbe diventare un utile spunto per mettere la palla in mezzo infatti scendono ancora i lunghi della Vigor Lamezza anche se Barba che è probabilmente il più alto ecco si sta muovendo proprio in questo momento sarà la punizione calciata da Antonelli con Ricci che va a misurare appunto i passi dicendo non vi preoccupate fischio io vediamo Doria che si allontana sono giusti la metratura è giusta si tratta di 9 metri e 15 attenzione anche al sole che in questo momento è negli occhi di Gianmarco Lombardo ecco che parte con il destro Antonelli grappolo umano blocchi contro blocchi la palla arriva pericolosa ci pensa di pugno Gianmarco Lombardo a risolvere la situazione il pallone però rimbalza sul numero 5 Antonelli si impenna ancora arriva Siciliano combatte con Domenico Voci e poi con Procopio che esce con eleganza cerca di rilanciare in una zona dove però c'è Maluccio che evita con un sombrero Marcellino c'è Domenico Voci che lo ferma con eleganza Doria che tocca per Mellace e Candistrà che apre molto bene per il Millennials Ienco chiuso in ripiegamento difensivo da Andricciola e per quanto non tutti siano d'accordo la rimessa è per la Vigor la Mezzia in quanti erano a essere in disaccordo con l'arbitro Leo? Si si sta arrabbiando mister mister Viterbo è molto arrabbiato con i suoi per questa ripartenza del Montepaone e intanto la palla arriva nella zona di Cannistrab ancora un rimpallo che dovrebbe favorire Young che fa sportellate con Conidi il rinvio vede Andricciola e poi ancora Nianca che commette fallo spostando in maniera netta Ienco e qui dobbiamo dire comunque che sono due bellissime squadre Giuseppe forse le migliori il miglior Montepaone è un ottimo Vigor la Mezzia per quelle che abbiamo visto qui al Frabotto Mannis senza ombra di dubbio questa è la partita migliore che abbiamo visto qui a Montepaone per quanto afferisce al Montepaone possiamo dire che questa è la gara più attesa dai tifosi è arrivato proprio il momento aspettato da tutti il Montepaone deve cercare di conquistare l'intera posta in palio per avere il secondo posto in assoluto la Vigor la Vigor di sicuro lo dimostra la sua seconda posizione ad un punto e il parziale la dice anche tutta perché le squadre con la differenza di un punto stanno sullo 0-0 anche nel secondo tempo è un match equilibrato ma in questo secondo tempo il Montepaone sta dicendo qualcosa in più Giorgio parte intanto Maluccio annotiamo un'ammunizione nei confronti dell'Ailander Mellace con Iannazzo che viene chiuso in rimessa laterale dal ritorno di Marcellino e Leo tu ammoniresti mai Mellace? No io non lo ammonire mai sai che mi piace tanto vedere giocare Mellace lui è quello che riesce sempre a dare qualcosa in più alle squadre quindi non lo ammonire mai ma qui purtroppo devo dire era abbastanza vicino l'abbiamo visto il fallo c'era è entrato un po' fuori tempo 18esimo minuto in corso calcio d'angolo indovinate voi chi lo va a battere si tratta del numero 5 Antonelli che ormai ne ha battuti praticamente 6 e batterà di destro scambia con Calidonna la palla arriva però nella zona presidiata da Francesco Fiorentino anzi no da Domenico Voci e la palla finisce quindi in out per una rimessa di un Lamezia che continua a recuperare metri e a tenersi in maniera stabile nella metà campo del Monte Paone e ancora la lunga gittata di Iannazzo che però deve posizionarsi così come vuole Ricci ecco che Iannazzo si prepara appunto alla rimessa ancora un colpo di testa di Barba la palla danza in aria salta Cannistrà e c'è fallo di Niang che travolge appunto Cannistrà Leo tu che sei lì a bordo cabbo ce lo puoi dire ma si sente qualche cattiva parola o sono tutti educati e corretti partita corretta senza altro con le due squadre che stanno giocando bene tutte e due dobbiamo dirlo una bella partita squadre che come avete detto poco fa stanno disputando una bella gara il Monte Paone secondo me migliore in alcuni frangenti comunque con qualche scontro qualche fallo ma tutto sommato corretta falli normali di gioco sarà contento il parroco quindi noi vediamo che Gianmarco Lombardo che ha segnalato a Ricci che forse c'era qualche gomito troppo alto che effettua il rinvio con il sinistro di Cannistrà che tocca per Procopio di prima si inserisce però Barba colpo di testa ancora di Conidi non si passa perché lì c'è Maluccio ancora Cannistrà si combatte i centrali difensivi sono veramente difficili da superare da entrambe le parti riceve da Calidon Andricciola che tocca poi per Zaffino attenzione al movimento di Niang Zaffino punta l'avversario di fisico e di esperienza prima Mellace poi Domenico Vosci coprono il pallone e poi fallo su Cannistrà che proteggeva la sfera e quindi si riprenderà con una punizione in favore del Montepaone mister Sestito quale potrebbe essere l'arma vincente la mossa risolutiva per l'uno o per l'altra squadra ma onestamente io conosco poco i giocatori solo gli allenatori sanno cosa hanno a disposizione diciamo che vedendo la partita all'esterno il Montepaone la sua arma migliore è continuare a fare il suo gioco basato sulla rapidità sulla velocità per mettere in crisi la vigor la mezza mentre la vigor la mezza è ben copersa si difende bene ed è molto pericolosa nelle ripartenze anche perché attaccanti molto veloci pericolosissimi negli spazi e intanto vediamo Leo a te la parola c'è una sostituzione mi sembra alle viste si è già pronto qui sulla linea laterale Romino se non sbaglio si chiama correggimi se sbaglio Romito Romino esatto vediamo ancora mister mister Viterbo non ho dato l'ok al cambio quindi aspettiamo si continua a giocare poi vai con la cronaca ci dà la linea quando mister mister Viterbo dà l'ok per il cambio ecco che la palla comunque esce fuori dall'area di rigore del Montepone Procopio la protegge la tutela dagli interventi di Tarsia con il rinvio di Doria Marco Voci cerca il lancio in profondità verso Marcellino non trova l'impatto giusto con la palla e Maluccio rinvia lì dove però Fiorentino Franco Bolla molto bene Nianga appoggia per Mellace e poi Conidi rilancia ancora ma c'è un ottimo Maluccio che colpisce di testa per il numero 7 siciliano deciso l'intervento di Mellace segnala il fallo il signor Ricci e quindi si riprenderà con una punizione all'altezza del cerchio di centrocampo in favore del Vigor Lamezia e questo è il momento probabilmente di Romito bellissima c'è anche c'è anche il riquadro per aiutarci so già chi esce Leo ma dimmelo tu te lo dico io c'è la lavagna luminosa qui davanti a noi esce il numero 9 Zaffino ed entra come detto poco fa Romino e quindi è il ventiduesimo grazie Leo si scambiano il 5 i due giocatori vediamo esce Zaffino e questo è un colpo importante un movimento sulla scacchiera importante da parte di mister Viterbo che fa uscire il suo bomber e quindi Romito avrà tanta importanza e tante responsabilità il colpo di testa di Romito probabilmente viene toccato da Gianmarco Lombardo almeno comunque direbbe dicono così i Lamettini prima che la palla esca invece per l'arbitro non è così e si riprende con un calcio di rinvio probabilmente invertite le posizioni di Niang e di Romito ora mi sembra che Niang sia a destra mister Sesto Sì c'è Romito a sinistra e Niang a destra sì si può far uscire a cuor leggero un giocatore da 17 gol a campionato e questo non sta a me dirlo giustamente solo l'allenatore ha il polso della situazione della squadra perché è quello che ogni giorno allena la squadra io un giocatore come Zaffino sì prima di toglierlo ci penserei due volte però se Viterbo l'ha fatto avrà i suoi vali di motivi ed ecco che Romito stoppa di petto allarga per Andricciola che lascia Niang che punta l'avversario poi apre verso Iannazzo ci pensa Mellace ma c'è stato il fallo su Niang e Ricci dopo aver aspettato il sviluppo dell'azione fischia la punizione in favore del Vigor Lamezia e quindi abbiamo annotato questa uscita di Zaffino chiaramente Leo se ti passasse poi vicino Zaffino non perde l'occasione di intervistare il capo cannoniere di questo torneo prima nella Serrese e poi dopo il mercato di riparazione nella Vigor Lamezia comunicazione di servizio questa per Pantaleone Leto si prepara la Vigor Lamezia a calciare indovinate ancora una volta con chi? con Antonelli e con il suo destro questa punizione a circa 40 metri di distanza dalla porta di Gianmarco Lombardo e quindi vediamo che la barriera è composta soltanto da Marco Voci parte il numero 5 la palla arriva ribatte di pugno Gianmarco Lombardo e per poco non finisce il pallone sui piedi di Niang è stato un tiro secco quello di Antonelli ma Gianmarco Lombardo ben piazzato ha detto no Leo c'è stato un momento di emozione a vedere questo tiro da lontano oppure tutta ordinaria amministrazione? Sì un bel tiro dalla distanza con l'intervento di Lombardo pronto il primo intervento importante di Lombardo forse nella giornata comunque i ospiti che cominciano a farsi pericolosi mentre vai Giorgio c'è un'azione del Montepone ma Luccio è difficile da superare intanto protegge la palla Romito se ne vai a Nazzo in velocità Conidi lo blocca e rinvia in una zona dove saltano di testa Voci e Barba e recupera però proprio il Lamettino con il pallone che viene arpionato da Ienco bloccato da Andricciola tocco per Niang decisa e corretta non secondo l'arbitro Ricci l'entrata di Cannistra e quindi fischiata la punizione ma viene bloccata la ripartenza della Mezzia della Vigor la Mezzia e quindi si riprenderà con una punizione quando siamo giunti a questo punto al 25esimo quasi 26esimo minuto di gioco il risultato è ancora di 0 a 0 tra due squadre che si stanno dando battaglia due belle squadre due signore squadre e quindi parte ancora Antonelli che cerca di lanciare il pallone in zona colpo di testa ci sono Tarsia Niang c'è anche Iannazzo c'è Romito arriva anche Siciliano ci sono tutti occhio Tarsia Romito la palla attraversa tutta l'area l'area di porta del Montepone ma ora notiamo il braccio destro di Ricci che aveva visto il fuorigioco quindi anche in caso di gol sarebbe stato annullato e quiz per i nostri telespettatori chi è il primo che si è accorto del fuorigioco Mimmo Cosentino ma non quello che ha spizzicato il pallone con la testa era l'altro che era quasi vicino alla linea si trovava in posizione fuorigioco l'arbitro l'aveva visto quindi niente da eccepire e quindi se Maurizio Vatrano è l'uomo dei numeri potremmo dire che Mimmo Cosentino è la moviola vivente per quanto riguarda la capacità di vedere le azioni quando c'è qualche dubbio e ancora però la vigor la mezzia con i giocatori che per colpire il pallone sono all'altezza del cerchio dell'area di rigore all'altezza del calcio di rigore recupera ancora però il Montepaone Marcellino lancio in profondità per una progressione Domenico Voci fermato da Barba che rinvia colpo di testa con Niang che comunque salta e però cerca di dare fastidio anche a Conidi elegantissimo nel liberarsi dell'attaccante della vigor la mezzia però poi ci pensa Barba a colpire di testa momento un po' confuso saltano tutti da tutte le parti alla fine Procopio salta sopra Andricciola se vedo bene e quindi ci sarà una punizione che batte subito Barba ma c'è un uomo a terra e quindi non si può proseguire con la vigor la mezzia che cercava di accelerare i tempi ma c'è Andricciola che è ancora a terra dicevamo sento che parlate qui in tribuna stampa Giuseppe Ranieri puoi dirci di che si tratta? No dicevamo che è inutile alzare troppo gli animi animarsi così troppo perché si rischia di rovinare per una stupidaggine una partita alla fine è una di quelle che dicevamo pure prima partite dove con lo spunto giusto si vince con l'uno a zero e quindi sarebbe il caso di evitare determinati atteggiamenti che possano poi generare delle situazioni fuorvianti parte ancora Antonelli esce di pugno Lombardo travolgendo un avversario e l'arbitro fischia la punizione ma Leo vedo che in panchina della Vigor Lamezia qualcuno sta svestendo la tuta Calidonna Francesco sta per entrare Calidonna Francesco vediamo al posto di chi sta per arrivare la lavagna luminosa così riusciremo a capire chi è sicuramente entra col numero 15 Calidonna Francesco vediamo subito chi chi sarà a uscire se non sbaglio il numero 8 Andriccola se non sbaglio vai Giorgio si Andriccola avremmo preferito l'uscita non per qualche cosa di Calidonna si è nei problemi poi di identificarli ma sicuramente in bocca al lupo a Francesco Calidonna e un applauso anche a questa Andriccola che ha giocato bene probabilmente nell'ultimo contrasto ha avuto la peggio e quindi anche qualche problema fisico recupera intanto Gianmarco Lombardo siamo alla mezz'ora esatta di gioco in base al nostro cronometro e recupera però ancora Siciliano Siciliano controlla Caracolla con il pallone oltre la metà campo poi si appoggia per il numero 5 Antonelli il pallone viene fatto proprio da Calidonna si tratta di Francesco che cerca di andarsi in velocità di fronte a Seienco che lo ferma combattimento duro ma corretto alla fine Marcellino che recupera il pallone e subisce fallo dicevamo Mimmo Cosentino siamo alla mezz'ora o ci manca ancora qualche secondo? Aspetta che guardo l'orologio adesso siamo al 29 e 30 grazie passa di qua il 24 barrato? ma non lo so non lo so io il 24 non so se passa di qua grazie Magico Mimmo Cosentino si riprende intanto con una punizione e vediamo appunto che sarà probabilmente Cannistrà a calciare appunto la sfera con Ienco se lo andiamo errati che appunto si è ripreso dall'impatto ricevuto nel precedente contrasto scambio tra Gianmarco Lombardo e Cannistrà con Iang che cerca di dare fastidio e con freddezza i due giocatori comunque fanno partire l'azione lancio verso Fiorentino il colpo di testa però vede Maluccio ancora arpionare il pallone e poi Mellace il lancio è per Marco Voci arriva Marco Voci ottimo l'intervento di Iannazzo che chiude la traiettoria presa da Marco Voci e mette la palla in calcio d'angolo molto bello il lancio molto bello lo scatto molto bello anche l'intervento di Iannazzo mentre riparte già il Montepaone con Fiorentino che prende la palla la calcia rimbalza Marco Voci arriva sul fondo mette in mezzo e Barba per poco non rischia l'autogol deviando il pallone però oltre il palo e quindi con un altro calcio d'angolo il Montepaone suona la carica e a suonarla non possono essere altre che Domenico Voci Fiorentino e Mellace in questa zona del campo recupera ancora Mellace mette in mezzo questa volta apri troppo il piatto e la palla finisce in out senza azioni Leo poteva essere gol si è arrabbiato mister Pisano per questa per questa azione sprecata con palla mandata direttamente fuori così come si era arrabbiato precedentemente con Fiorentino che era tutto da solo invece di fermare il pallone aveva dato avanti di testa perdendo così un tempo di gioco perché hanno recuperato palla e poi nell'azione successiva si è andato avanti ora c'è il fallo vai Giorgio con la cronaca ecco che c'è stato un fallo di esperienza conquistato da Maluccio che ha coperto il pallone e vediamo Ricci che va a rampognare sia Maluccio che Salvatore Procopio dicendo ragazzi comportatevi bene perché ci penso io recupera qualche metro Maluccio con Maluccio che ne recupera un altro mezzo e Ricci che dice dobbiamo tornare indietro di 40 cm quindi siamo a fare delle misurazioni da geometra e quindi si riprenderà con precisione con Maluccio che si prepara appunto a calciare il lancio è lungo supera la metà campo arriva fuori ma Romito Romito riesce comunque a colpire di testa ma la sfera era già uscita è un giocatore un po' dimmi prego Leo Leo mi volevi un altro cambio per per la vigore entra in campo il numero 16 Cristaudo ed esce Calidonna Simone ecco è uscito l'11 Calidonna una sostituzione tra due under Cristaudo del 99 e Calidonna del 97 quindi questa è la mossa di mister Viterbo ancora Marco Voci che non riesce a controllare il pallone rimessa laterale con Iannazzo che la batte in direzione del numero 7 siciliano apertura che vede però una ribattuta corta e ancora siciliano che apre lontano verso Romito che ora è stato spostato a destra cerca di evitare Ienco e quindi probabilmente giocano con il tridente mister Sestito Romito a destra il numero 16 Cristaudo a sinistra e al centro Nianco sì ma è così dall'inizio entrambe le squadre hanno un tridente d'attacco hanno solo cambiato un po' gli interpreti ecco che si prepara alla rimessa dovrebbe la vigor la mezzia ecco che parte la rimessa cercando Romito colpisce di testa ma lo sovrasta Cannistra e si riprenderà ancora con un calcio d'angolo probabilmente affidato ai piedi di Siciliano con Barba che scende in area di rigore mentre va a coprire la situazione Maluccio insieme al numero 16 Cristaudo anzi rimane solo Cristaudo perché anche Maluccio si produce in un attacco che vede almeno sei giocatori se non sette della vigor la mezzia al centro dell'area Barba colpisce bene di testa la palla però finisce in out e quindi si riprenderà con un rinvio al nostro cronometro siamo al 35esimo del primo tempo ancora 0 a 0 tra le due squadre e Conidi che rinvia ancora in profondità Barba imperioso di testa mette la palla mette la palla in out Leo prego e arriva un cambio anche per il Montepone entra Mungo ed esce con il numero 21 Marcellino il minuto è il 35esimo benissimo Mungo per Marcellino quindi mosse sullo scacchiere anche un'importante partita scacchi questa tra due mister che vanno per la maggiore Pisano e Viterbo che quindi stanno mettendo in campo tutte le proprie risorse per arrivare eventualmente alla vittoria il colpo di testa vede ancora Mellace lottare con il numero 15 Calidonna il pallone Ienco che scivola sulla pressione di Romito ma ne esce fuori molto bene e poi alla fine Niang lo mette giù con uno sgambetto sicuramente non cattivo in velocità con Cannistra che si prepara appunto a battere appoggiando a quel libero aggiunto che si rivela essere Gianmarco Lombardo ancora Cannistra lancio lungo a cercare appunto lo scatto di Ienco eccessiva profondità della palla e sarà ora Antonelli a effettuare una rimessa laterale a questo punto mancando poco meno di 10 minuti al fischio di chiusura chiedo a Giuseppe Ranieri di indicarci quelli che sono per lui al momento i migliori in campo ma io per quanto riguarda il Monte Paone potrei parlare di di Cannistra e di Voci Marco mentre per quanto riguarda la Vigor Andricciola e Zaffino Andricciola Zaffino Cannistra e Marco Voci sono i migliori in campo secondo Giuseppe Ranieri e voi come di consueto telespettatori premendo il tasto fucsia del vostro telecomando potete poi confermare o meno questa scelta ancora una mossa di Mr. Viterbo Leo Arriva un altro cambio un altro cambio per la Vigor entra col numero 14 Muraka ed entra ed esce scusate Siciliano e chiedo a Mr. chiedo a Mr. Sestito è quel Muraka che è forte un fortissimo giocatore o è solo un omonimo no no è quello lì che negli ultimi due tre anni fino a novembre ha giocato in promozione col Maida e quindi mette una una tu Mr. Viterbo con Doria che cerca di andarsi in velocità ma viene bloccato la palla si impenna Mellace molto elegante libera per Ienco poi la palla viene recuperata da Francesco Calidonna ancora uno scambio con Muraka che la mette in mezzo di testa con Idi non fa passare nulla e poi è Mungo che blocca il pallone all'altezza del centrocampo cerca di partire evita un avversario Tunnel con servizio per Domenico Voci lancio in profondità per Procopio che arriva con Maluccio Procopio un miracolo miracolo di Maruca che riesce a mettere una pezza probabilmente c'era stata una spinta di Procopio però l'arbitro aveva detto che era tutto regolare poi Maruca ha fatto rimbalzare il pallone sul corpo di Procopio e la palla è finita in out ma attenzione c'è un'altra sostituzione Leo prego per il Montepaone la sostituzione questa volta entra Pirritano esce Ienco trentasettesimo manca sette otto minuti più recupero in campo Pirritano ed entra lo Schachiri del Montepaone quel Pirritano che tante volte ha risolto gli ultimi inutili partite mister Pisano punta forte sul tavolo potremmo dire all in in questi ultimi sette minuti di gioco il pallone ancora si impegna rimessa laterale che sarà di competenza della Vigor Lamezia con Antonelli che tocca per Muraca ancora per Antonelli allarga verso Romito ha di fronte a sé Mellace che lo chiude di fisico Canistrà esce con personalità riparte ancora in velocità il Montepaone con un allungo che viene però contratto da Barba e ancora un lancio di Tarsi a favorire Romito Mellace lo blocca con sicurezza probabilmente fallo tocco in mezzo ma l'arbitro fischia il fuorigioco di Cristaudo c'è stato un attimo di impasse perché probabilmente c'era il fallo su Mellace Ricci però ha fischiato il fuorigioco e Cristaudo quindi pur tirando non ha impensierito Gianmarco Lombardo attenzione perché il Montepaone sta producendo un grande sforzo ma la Vigor Lamezia sicuramente a questo punto gestisce la doppia possibilità di risultato sia il pareggio che la vittoria e lo gestisce con grande caparbietà ed esperienza Domenico Voci lancio in profondità verso Marco Voci con Maluccio che chiude rinviando sempre con il suo sinistro veramente interessante Domenico Voci recupera il pallone evita Cristaudo non evita Tarsia è entrata decisa ma Fiorentino poi appoggia per Conidi lancio in profondità Barba colpisce di testa recupera Iannazzo che controlla e riparte non c'è un attimo di tregua raddoppio della marcatura la palla si infrange sul muro Procopio Mellace ancora si impenna colpisce di testa Fiorentino che non ha dato scampo a Niang con Mellace che lancia per Pirritano leggermente profondo il lancio con Maruca che controlla la palla e la fa sua e la rinvia poi ben oltre la metà campo nella zona dove saltano Muraca e Cannistra il pallone si impenna ancora Muraca che riesce a toccare per Niang esce con Idi con decisione e quando la palla non è più di pertinenza e la vigor la mezzia l'arbitro fischia la punizione con Muraca se non andiamo errati che si prepara appunto a batterla è una punizione che potrebbe sortire degli effetti interessanti per la squadra ospite e chiederei a Leoleto che sta dicendo mister Viterbo su questa punizione Allora su questa punizione ci sono i due mister che danno disposizione c'è mister Viterbo che è arrabbiatissimo con i suoi per come stanno gestendo questa parte di gara anche continuamente nel centrocampo del Montepaone senza però riuscire a rendersi veramente pericolosi e subendo poi le partenze del Montepaone ora chiede a tutti di entrare in area di rigore eccolo li sta chiamando ancora una volta e vediamo poi come verrà verrà sfruttata questa punizione Mirce Pisano accanto a suo e dall'altra parte in questo momento è tranquillo e guarda lo svolgersi della gara parte Muraca di sinistro tiro profondo la palla arriva fuori dal campo e c'è una deviazione secondo Ricci e quindi ci sarà un calcio d'angolo e questa volta è Muraca che va a effettuare appunto il calcio dalla bandierina e diciamo che prima forse era scesa troppo era arretrata troppo la linea difensiva del Montepaone permettendo di avvicinarsi alla porta a tutti i colpitori di testa e la vigor la mezza parte Muraca ancora di sinistro il pallone però è bloccato da Mellace riparte il Montepaone tocco per Mungo che riceve palla c'è Pirritano contro piede del Montepaone Mungo sbaglia però l'appoggio e alla fine favorisce Maruca al punto che c'erano soltanto due difensori attenzione ci dicono qualcosa Maluccio e Procopio probabilmente c'è stato uno scambio di opinioni ancora si accende un focolaio di contestazione con il numero 15 Calidonna che è un po' arrabbiato un po' tutti nervosi con tutti Maruca Muraka Mellace insomma c'è un momento di nervosismo vediamo se l'arbitro che si è allontanato per guardare meglio Mimmo l'arbitro deve guardare perché poi deve raccontare tutto quello che è successo sì sì ma l'arbitro è quello che deve fare è starsene alla larga guardare e poi decide ma alla fine incomincia a prendere le sue decisioni noi abbiamo Pantaleone Leto che invece è proprio lì Leo entra in campo e picchia tutti allora di visto o non ho visto nulla stavo seguendo l'azione che si svolgeva a centro campo però da come raccontano qui quelli della panchina pare ci sia stato uno scontro tra il nove e qualcun altro lì sulla sulla faccia però dico la verità Giorgio io ero concentrato sulla ripartenza del Monte Paone infatti l'arbitro ha munito Procopio in questo momento quindi presumo abbia visto anche lui qualcosa di Procopio ok allora grazie Leo per la precisazione quindi l'importanza di avere un bordo campista e anche sapere quello quello che succede e vediamo che anche le forze dell'ordine si sono avvicinate vediamo che vanno a verificare ma niente di grave quindi l'arbitro ha tenuto in mano la situazione e diciamo come sta dicendo giustamente mister Sestito un contropiede sprecato peccato per il Monte Paone perché è stata veramente un'occasione favorevolissima se il ragazzo del Monte Paone fosse riuscito a servire bene l'attaccante che era completamente solo probabilmente il Monte Paone avrebbe fatto il colpaggio e Ricci intanto fa riprendere il gioco con Maruca che lancia lontano colpo di testa a favorire Iannazzo con un tentativo da parte di Cristaudo e poi Fiorentino che cerca di innescare Marco Voci attenzione perché è successo qualcosa rimessa laterale per la Vigor la Mezzia con Cristaudo Fiorentino si sono scontrati Marco Voci e l'assistente di parte della Vigor ma niente di grave niente di volontario Francesco Calidonna che allarga con Doria che recupera colpo di testa tra Pirritano e Antonelli ancora la Vigor la Mezzia con Fiorentino che rinvia Procopio riceve il pallone cerca di controllarlo anticipato da Maluccio ancora per Iannazzo appoggia per Tarsia che ragiona Niang apertura verso Cristaudo fermato da un ottimo intervento di Conidi e probabilmente qui è stata fischiata un'intenzione cattiva che non si era tramutata infatti Leo cos'è successo in questo momento vedo che ti stanno parlando i carabinieri non vorrei che ti portassero via mi chiedono solo a che minuto che minuto siamo 44esimo quasi 45esimo fra poco l'arbitro chiamerà il recupero intanto c'è questo calcio di punizione su cui hanno protestato un po' tutti ed ecco che quindi c'è una c'è una punizione importantissima con Muraka che si prepara a calciarla a calciarla di sinistro vediamo con Domenico Voci che fa da barriera però Ricci sta Leo dicci cosa dice Ricci Leo cosa è successo Leo aspettiamo notizie allora ha indicato se non sbaglio a qualcuno della panchina di allontanarsi non ho capito a chi però non si allontana nessuno dalla panchina sono tutti seduti a mister Pisano ma non l'avevo visto far niente sinceramente al mister Pisano era tranquillo in panchina e non è stato tranquillo per tutta la partita anzi è stato quello che ha sempre dato istruzioni per rimanere calmi quindi non so per quale motivo sinceramente il signor Ricci abbia deciso questa morsa vai Giorgio sì intanto dobbiamo dare atto anche a una certa esperienza della Vigor Lamezza che in questi momenti finali ha fatto trascorrere il tempo anche con un po' di agonismo e cattiveria parte Muraka che appunto ha fatto muovere tutti e poi si è fermato ancora la traiettoria di Muraka grappolo al centro Niang colpisce di testa e l'arbitro fischia fischia un fallo di confusione per togliersi i pensieri intanto Lombardo rilancia verso Voci ma attenzione perché Niang probabilmente si è fatto male e serve l'intervento dei sanitari che accorrono prontamente quindi ci sarà non si tratta di Niang ci fanno notare giustamente si tratta di Barba che è saltato e probabilmente è impattato con qualcuno e quindi interviene intervengono i sanitari Leo quindi ci sarà penso parecchio recupero alla fine sì penso ci sarà parecchio da recuperare anche perché in questi ultimi due minuti non si è praticamente giocato da quando ha fischiato il calcio di punizione adesso sono passati due minuti o due e mezzo anche e c'è stato solo la battuta del calcio di punizione quindi per ben due minuti il gioco è stato fermo quindi poco prima c'è stata l'altra interruzione quando c'è stato quel parapiglio al centro quindi penso che il recupero arriverà almeno sui 4-5 minuti Leo e allora approfittiamo un attimo permettici di far fare un saluto a tutti i nostri telespettatori da Sassà Iapello che lì vicino a te lo vedo infreddolito ma può dire qualche parola anche Sassà Iapello il nostro uomo della telecamera dal campo Sassà un saluto ai nostri telespettatori questo ci chiedono dall'alto della tribù un saluto a tutti i telespettatori di S1 ecco la voce di Sassà che ha salutato i nostri telespettatori Giorgio a te la lì grazie al magico Sassà Iapello tu non lo vedi Leo ma dietro la panchina della Vigor Lamezia c'è un giocatore che si sta preparando non ti far sorprendere da un'eventuale sostituzione è lì che sta mettendo gli scarpini ed è piegato però è proprio dovrebbe essere il numero 13 però ora rimette la casacchina il numero 13 Lucchino ora vediamo vediamo cosa succederà teniamo d'occhio soprattutto il signor Ricci per vedere che entità sarà il recupero anche perché abbiamo superato abbondantemente il 45esimo quindi si riprenderà vediamo se Barba può rientrare Ricci dice di sì ecco che Barba riesce a rientrare il lancio di Mellace è profondo per la proiezione di Pirritano che protegge il pallone ma c'è un ottimo intervento di Antonelli che rinvia il colpo di testa è di Conidi e poi c'è ancora un colpo di testa del numero 15 Francesco Calidonna Mellace fa arrivare un lancio nella zona di Voci il colpo di testa di Barba lo rimette sostanzialmente in gioco ma riparte anche la Vigor Lamezia Fiorentino blocca il pallone vince il rimpallo con Tarsia ma ancora un rinvio da parte di Maluccio che è stato veramente un'argine importante e poi cade per terra un giocatore del numero 15 Calidonna e quindi si riprenderà con una punizione in favore della Vigor Lamezia Leo non si parla di minuti di recupero Leo nessuno ha detto niente sui minuti di recupero ecco vediamo che c'è l'ammunizione anche per Cannistra Leo quanti sono i minuti di recupero non li ho visti indicare Giorgio non li ho ancora sentiti va bene però tu sei quello più vicino al signor Ricci quindi potrei darci questa informazione vado direttamente in campo e lo chiedo al signor Ricci ma ancora non ha alzato la mano per dire quanti sono sta continuando anche se a quest'ora avrebbe dovuto già indicarli siamo al cinquantesimo parte Muraca il pallone arriva nella zona di Gianmarco Lombardo che blocca il pallone si prepara stesso e si prepara appunto a rinviare lancio lungo che però favorisce Calidonna il colpo di testa è per Romito ha di fronte a Sedoria lo evita con Mungo che gli ruba il pallone cerca di evitare l'avversario passa a Doria che parte in velocità ma Romito si frappone di fisico e recupera il pallone passando a Muraca gran tiro di Muraca però poco preciso e si riprende con un calcio di rinvio da parte del Montepone con Gianmarco Lombardo che tocca per per Canistra che poi passa a Mellace si stringono in due su Mellace vediamo Marco Voci ma ancora una volta il lancio per Domenico Voci è impreciso con Tarsia che recupera il pallone Fiorentino se ne va in velocità è allungata la palla con Iannazzo che colpisce di testa cerca di favorire un compagno Mungo gli ruba il pallone tocca per Marco Voci recupera entra in aria Marco Voci mette in mezzo il pallone alla fine tocca alla disperata Calidonna con Pirritano che ruba il pallone se ne va in velocità Pirritano tenta il tiro potente la palla vede spuntare due giocatori del Montepone ma recupera ancora Maruca e rinvia in profondità verso Niang che salta insieme a Canistra anticipandolo e però permettendo a Conidi di recuperare il pallone poi Conidi mette in rimessa laterale e mi sa che ci stiamo avvicinando alla fine della partita con il risultato ancora di 0 a 0 tra Vigor la Mezzia e Montepone così come all'andata ci potrebbe essere ancora questo risultato a reti bianche e Niang che recupera il pallone per effettuare la rimessa c'è Barba che si è proiettato in avanti colpisce di testa Canistra recupera disturbato da Romito e poi ribatte però sui piedi di Niang che tenta ancora il cross evita Doria mette in mezzo il pallone colpo di testa di Muraca che però non inquadra la porta con Tarsia che ancora mette in mezzo Muraca colpisce di testa Lombardo chiede la palla e poi rinvia verso Marco Voci Marco Voci è marcato da Maluccio cerca di evitarlo di fisico Marco Voci difende la palla e poi viene messo a terra da Maluccio e si riprenderà con una punizione in favore del Montepone con Maluccio che però non ci sta e dice non ho fatto fallo momenti emozionanti questo finale di partita con tutto tutto il Montepone che si rilancia nell'area di rigore della Vigor la Mezzia e Mellace che calcerà di destra sicuramente quando siamo ormai otto minuti oltre il tempo regolamentare batterà Mellace questa che è probabilmente l'ultima possibilità con Fiorentino e Lombardo che rimangono a difesa della metà campo del Montepone vediamo che Ricci sta per fischiare sta per partire il destro di Mellace movimento in aria parte la parabola Procopio e per poco Domenico Voci ci sembra non riesce ad arrivare sul pallone ed è finita Leo vedi se riesci a prendere qualche giocatore noi intanto ringraziamo l'esterna l'esterna 65 di S1 TV Leo vedi se riesci a intervistare qualcuno ringraziamo Antonio Siciliano Pasquale Lentini Pantaleone Leto Maurizio Matrano Giuseppe Danieri e Sasaia Pello dovremmo avere ora ai nostri microfoni qualcuno in campo Leo mi sa che puoi anche entrare in campo volendo perché ormai l'arbitro non ti caccia più e il colpo di destra di Procopio è stato un po' il tocco finale per quanto riguarda per quanto riguarda questo Leo Leo ha con sé Zaffino prego Leo Leo lo puoi intervistare se rilascia vediamo ecco Leo con Zaffino il bomber ma non rilascia dichiarazioni Leo dici tutto Zaffino dice che non sta bene alla febbre non ha voglia di rilasciare dichiarazioni vediamo se ci sarà qualche altro dei protagonisti della gara che vuole rilasciare qualche dichiarazione andiamo a centrocampo vediamo di recuperare qualcuno ecco c'è Mellace che sta salutando il suo pubblico l'Eylander siamo con Mellace mettiamoci verso la camera Mellace uno dei protagonisti di questa di questa gara bella partita combattuta per tutta la gara Montepone che ci ha provato tante volte siete stati molto molto vicino alla rete direi molte più volte pericolosi di quanto lo sono stati gli ospiti una gara combattuta un pareggio che potrebbe non servire a nessuno dei due io invece direi che è un bel pareggio per tutte e due le squadre perché abbiamo dimostrato che fino al 95 sono giocati tutti e due sia noi che loro faccio i complimenti alla Vigor perché lo posso dire è una delle poche squadre che ci ha dato fino a torcere fino all'ultima complimenti a loro è stata una bella partita maschia come è giusto che sia penso che nessuno delle due squadre ci meritiamo la prima categoria per il pubblico che abbiamo tutte e due le squadre complimenti a loro complimenti anche al mister Viterbo che come al solito è un gran signore anche oggi faccio i complimenti a lui che ha messo una bella squadra in campo quindi la caccia al San Caloggio è aperta sì sì in campo stava perdendo 2 a 1 non so ha perso 1 quindi noi ci avviciniamo anzi tutti e due ci avviciniamo dopo siccome loro devono venire sia qua da noi sia alla mezza quindi secondo me è ancora molto aperto il campionato meglio così complimenti Mellaci per oggi per tutte le tue gare io dico sempre Mellaci è un giocatore che ci vuole in campo e qualsiasi squadra lo vorrebbe complimenti e in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione grazie a lei a posto e allora lei o noi ti ringraziamo ora ecco stiamo facendo picture in picture con Pasquale Lentini e Sasaiapello ricordando il risultato finale 0 a 0 tra Real Montepaone e Vigor Lamezia un saluto a tutti e da S1 TV e dall'Esterna 65 dal Frabotto Mannis di Montepaone grazie e a ci sentirci